...in branco, ecco il faraone con Boateng e signora, insieme vogliono propagandare il punto della cresta, infatti così vestiti fanno rizzare i capelli a tutti, insomma i calciatori sono degli appassionati di moda, guardatevi, hanno le tipiche facce da fashion. Al terzo posto siamo a che tempo che fa, a furia di stare con quel pretino di Fabio Patio, Lucianina sente la necessità di avere un uomo al suo fianco, durante un'intervista rilasciata a quel petto di pane del mollicone, l'ha detto che mi sento che a manifestare il suo interesse per il giovane conduttore del TG1 Alberto Matano. ma che filmo che c'è adesso al giugno? l'hai visto? ha riposto con Giorgino? no, 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 Giorgino guarda, vedi, prima del 13 e 30 e... non che Giorgino non sia troppo il giugno per lui grazie, la video c'è sempre sull'ultimo che ho avuto nel giugno va bene, te lo dà, grazie a rientro di studio, Lucialina si lascia scappare scontanti rivelazioni poi l'ha mandato nel giugno si, l'ha mandato nel giugno poi si sono mai visti no, è finita così è finita così? niente, neanche un po' non è finita così no, no, no non è finita così